Un'epoca per il strato... ...e' un testo tirato, vediamo con la prima forma... ...la forma... ...la forma... ...duretta... ...notto... ...notto... ...durna tocca... ...e' fatti soli... Il fondo grosso, vediamo che il grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, rottare in quarto. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, rottare in quanto riguarda il fondo grosso ha passato l'orecchio. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco, terra a terza posizione. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco, terra a terza posizione, grande attacco. Il fondo grosso ha passato l'orecchio, grande attacco. Grazie a tutti.